di alta intensità il ritmo impostato dalla Fiorentina Erzen ora cerca uno spunto Erzen soprattutto per smorzare il pressing offensivo dalla Fiorentina qui usce, prova dalla distanza a sorprendere Ghirre con calma la Fiorentina gestisce con il Napoli molto più attendista rispetto ai Viola qui Neto è bravissima ad eludere l'intervento di Di Marino va Neto con il destro va Neto, palla che si infrange contro la barriera poi ancora la palla sui piedi di Neto non è finita, Baldi prova a suggerire in avanti Neto tocca dentro per il destro ancora il Napoli in avanti con questo spunto per Acutica la palla su di sinistro altra occasione d'oro questa volta per i Napoli la prima per la squadra di Pistolesi altra azione davvero pericolosa già cinque occasioni da segnalare attenzione a Napoli che con la Fiorentina scoperta Erzen in aria Erzen! altro palo questa volta da parte del Napoli qui vediamo Erzen controllo ingresso in aria destro potente il cui destro è stato ben calibrato ma forse un po' meno preciso attenzione a Goldoni Goldoni dalla distanza prova il destro altra chance per i Napoli questa volta da un'invenzione di Goldoni prova a correre sulla sinistra Zanoli non la vede Breitner recupera palla in Napoli fallo tattico su Goldoni e giallo ai danni altro lancio in profondità per Ciazzi Nicolau che gira bene il pallone verso Capitanelli poi Goldoni uno sguardo verso la porta e il destro lo scarico per Neto uno sguardo in mezzo poi la palla per Sabatino Sabatino Sabatino! la palla che finisce sul fondo ma forse era si era alzata la bandierina prova a far correre sulla destra Piemonte ne è entrata le finte anzi Cafferata Cafferata dentro il tiro cross buono lo spunto offensivo di Cafferata Napoli che si affida tantissimo alle ripartenze veloci del trio d'attacco in avanti qui è brava Neto a passare in mezzo a due e anche a guadagnare un calcio di punizione sotto gli occhi vigili del direttore di gara prova la sterzata Sabatino ad aggirare Garnier però è brava Garnier a contenerla e a negare a Sabatino il tentativo di battere a rete attenzione a Cuti che ha spazio a Cuti a Cuti entra in aria a Cuti contro Schoepenegger a Cuti con il destro e la palla in rete Napoli 1 Fiorentina 0 la rete di Cuti e non sbaglia Arianna Cuti con il destro va a freddare l'estremo difensore dalla Fiorentina e dice che basta così l'arbitro qui a a Napoli il Napoli il Napoli il Napoli il Napoli il Napoli il Napoli Grazie a tutti